Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Antonella Clerici ha deciso di aprire le porte della sua casa nel bosco, un vero e proprio rifugio immerso nella natura e nella tranquillità. La conduttrice si è trasferita in questa dimora insieme al compagno Vittorio Garrone, alla figlia Maelle Martens e ai tre cani di famiglia Argo, Simba e Pepper. Attraverso un video pubblicato su Instagram, Antonella ha mostrato agli utenti il suo luogo del cuore, situato ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria. La casa è circondata da ampi spazi verdi, una piscina, una serra con piante e fiori, un patio con un dondolo e una cucina in stile country chic. La conduttrice ha sempre amato la natura, gli animali e il bosco e ora ha deciso di condividere con il pubblico la bellezza e la serenità di questo luogo magico. Dopo un intervento d'urgenza subito prima dell'estate, Antonella ha scelto di trascorrere la sua convalescenza in questa casa, che rappresenta per lei un'oasi di pace e tranquillità. Nel video si possono anche vedere dei cavalli e percepire la presenza di una stalla, che contribuiscono a creare un'atmosfera unica e suggestiva. La casa nel bosco di Antonella Clerici è il posto ideale per trascorrere momenti di relax e condividere la vita con i propri cari. Antonella ha deciso di aprire le porte di questa dimora per far entrare il pubblico nel suo mondo, fatto di natura, amore e armonia. Grazie a tutti!